ah funziona, perfetto poi le luci vediamo dunque così dovrebbero andare bene più basse ottimo mi sembra che ci sia tutto sì, i trigger sono lì oh, ciao ben arrivata siaditi, dai ti stavo aspettando ah, non ci farei caso stavo incannando il tempo preparando il setting per il mio nuovo video a sml ma possiamo tranquillamente prenderci una pausa per chiacchierare un po' te l'avevo promesso ti dà fastidio che ci sia tutta la mia attrezzatura qui? no? perfetto allora, dimmi che cosa ti è successo? al telefono ti ho sentita preoccupata? lo sai mi puoi dire tutto ma certo ti ascolterò ho capito è un problema d'amore quindi me lo aspettavo eh, ormai ti conosco da un bel po' ma vedrai qualsiasi cosa sarà superabile anzi lo supereremo insieme ti va di raccontarmi un po' meglio? forse ci vuole un buon tè o un infuso che ne pensi? ah sì ho un infuso buonissimo questo si beve freddo è un infuso al gusto mela e sambuco ne vuoi un po'? sì sì lo preparo anche per me ho questa bottiglietta bellissima è un regalino che mi ha fatto una persona che mi segue sul canale si chiama Angelo è piena d'acqua fredda naturalmente mi piace moltissimo anche al tatto vuoi sentire il suono? ok ok allora prendo la tua tazza va bene questa? ok sì ricordavo infatti che fosse la tua preferita vai prendiamo l'infuso un po' è è è sono non non ecco c'è lo mettiamo all'interno della tazza e ci versiamo subito l'acqua fresca ecco per te ne preparo uno anche per me ti dispiace? bene forza tira fuori tutto avete il legato quindi? ah cavolo mi dispiace è stato un litigio molto pesante? eh sì purtroppo ho capito conosco questo genere di sensazioni lui è una persona lui è una persona molto difficile almeno per quello che ricordo ci vuole molta pazienza è vero ma per te come è stato? come è stato? come ti senti? quindi è come se fossero d'un tratto crollate tutte le tue certezze sì sì posso capirlo da quanto tempo ti senti così? ok ok ma hai provato a richiamarlo? ho capito ho capito quindi la sua sembra una decisione definitiva diciamo è già successo altre volte vero? ah così mai? in effetti se sono già due giorni che hai interrotto le comunicazioni con te sembrerebbe proprio un po' diverso dal solito questo litigio d'altra parte per come mi stai raccontando la storia sembra sia dovuto a qualcosa di molto molto banale e infatti ma hai pensato se per caso questo non sia stato una specie di pretesto da parte sua come erano i giorni scorsi l'hai visto un po' strano per caso? quindi erano già un paio di settimane che si comportava con distacco ho capito davvero? e questa amica in comune che avete è un'amica di vecchia data e infatti non la conosco e non è mai bene almeno secondo me che si mettano in mezzo altre persone forse avrebbe potuto agire con un po' più di discrezione si concordo con te ma ora non stare a pensare a questo di sicuro la colpa non è la sua se lui ha preso questa decisione significa che ci ha ragionato su e che già da un po' stava maturando questo pensiero tu che cosa vuoi davvero? vorresti tornare insieme a lui quindi? eh forse no beh forse dovresti domandarti se ti piaceva il modo in cui lui ti trattava ti sentivi felice? nelle ultime due settimane no? ovviamente e prima c'era qualcosa che ti faceva dispiacere quindi ti sembrava non volenteroso di risolvere i problemi ah eri sempre tua a chiedere scusa e a proporre di fare pace e questo come ti faceva sentire? affaticato? ti capisco ti capisco molto bene forse dovresti iniziare a ragionare su questo posso farti una domanda? puoi non rispondere se non vuoi quali sono i modi in cui lui ti faceva sentire amata? comprandoti dei regali e infatti ricordo ogni mese mi parlavi di un suo nuovo regalo ma questo è il modo che tu preferisci per sentire da un'altra persona che ti ama è il tuo linguaggio d'amore preferito ricevere i regali cosa preferiresti? ok ok quindi preferiresti sentirti apprezzata e sentirti rivolgere dei complimenti lui questo lo faceva? poco gliene hai mai parlato? beh per quello che penso io ognuno nelle relazioni d'amore dovrebbe dare il proprio 50% tu puoi arrivare fino a un certo punto ma poi sta all'altra persona fare del proprio e mettere il proprio impegno non puoi lavorare per due anche se ogni tanto è quello che facciamo un po' tutti quando abbiamo una carenza d'amore quando ci sentiamo poco ascoltati iniziamo stranamente a dare molto di più capisco capisco molto bene come ti senti e mi dispiace vorrei poter fare qualcosa per te posso aiutarti a rilassarti un po' o darti dei consigli se tu lo vuoi però certamente questo è un problema che tu devi risolvere con lui io ti consiglierei di creare l'occasione per parlarci e per chiarirvi definitivamente proponigli un incontro magari in un luogo neutrale sì all'esterno va benissimo così non rischi di incorrere in scenate se continuano a rispondere questa purtroppo è una sua responsabilità ma è anche un dato di realtà brandineatto vuoi davvero stare con una persona che non ha voglia di risolvere un problema con te capisco capisco che la paura di stare sola sia molto forte soprattutto in questo momento ma ricorda di domandarti sempre in ogni momento ciò che desideri davvero scrivilo magari può aiutarti scrivi ciò che vuoi 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 al tuo fianco un alleato immagino e non un nemico ogni comportamento ostile certamente non fa per te mi racconti sempre di desiderare la serenità la tranquillità un rapporto conflittuale non ti aiuta in questo ma certo certo che ci sono spazi per risolvere il tutto è solo che non puoi farlo da sola hai bisogno essere in due non preoccuparti io sono super 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 sicura che tutto andrà bene ne sono certa in un modo o nell'altro riuscirei a trovare la strada con lui o senza di lui prenditi del tempo per riflettere utilizza questo tempo per pensare a te e prova a capire cosa dice la voce in fondo al tuo cuore sposta l'attenzione da lui a te d'accordo voglio che tu esca da qui adesso domandandoti cosa vuoi veramente lo farai? lo farai? ci conto? e questa sera per rilassarti un nuovo video smr va bene va bene ne creerò uno apposta per te si te lo prometto va bene allora torno al lavoro grazie per essere passata a trovarmi ti abbraccio forte 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 ti voglio sempre tanto bene ci vediamo presto e chiamami ciao adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte